La fiducia la acquisiamo attraverso la relazione. Conoscervi significa potervi servire al meglio. Situazioni come quella che abbiamo creato oggi per voi, per portare valore che vada al di là del valore che vi portiamo nella gestione dei vostri patrimoni, significa conoscerci meglio, anche attraverso una giornata passata a giocare a golf insieme. Un piacere ed un onore per Siglacom essere al fianco di Ottavio e Finecco in questo evento d'eccellenza, insieme a persone d'eccellenza. Qui al Franciacorta un golf club splendido. Personalmente una bellissima esperienza di golf e relations. Sì, io è parecchio che gioco a golf e almeno una decina di volte a Franciacorta avevo giocato. Team ottimo. Ho giocato anche col boss e quindi questo aiuta. Sono cliente loro da 4-5 anni almeno. Direi che mi trovo ottimamente. Non guasta il fatto di trovarsi anche a giocare a golf, oltre che parlare di borsa o di rendimenti. La giornata è stata stupenda, sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista dell'amicizia. È andata bene. È una giornata veramente carina. Il rapporto con Finecco nasce dall'amicizia con il mio amico Marzio. Ci troviamo molto bene, lavoriamo vicini, andiamo molto d'accordo, ci capiamo il volo e mi trovo molto bene. Beh, guardi, è stata una giornata meravigliosa, sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista del campo, che è sempre un campo meraviglioso, uno dei campi più belli che io abbia mai calcato. Con Finecco è un'avventura che ho cominciato da poco, direi, quindi le ho trovate molto preparate. Sono persone molto vicine, sempre presenti, per cui non posso altro che in questo momento esprimere un parere positivo. La giornata è andata molto bene. Purtroppo non conoscevamo il campo e quindi abbiamo avuto qualche difficoltà in quelle buche dove non riuscivamo a capire dove tirare. Veramente tutto molto bello, dall'organizzazione, il campo, la clubhouse, l'accoglienza, soprattutto quando siamo arrivati. Io ho conosciuto Finecco ormai una decina di anni fa. Direi che in tutti questi anni ho sempre avuto un rapporto ottimo, ho conosciuto delle persone molto preparate e devo dire che questo mi ha permesso anche di far conoscere Finecco ad altre persone che a loro volta sono diventate clienti. Il successo che abbiamo avuto quest'anno andremo a replicarlo il prossimo anno, vi inviteremo ancora. Avremo ancora più occasioni per stare insieme al livello che oggi avete vissuto insieme a noi. Vi aspetto tutti anche nel 2023. Grazie a tutti.